Al di là del bene e del male, una frase totalmente sgangherata e totalmente inutilmente pesante che mi stupisco che l'abbia potuta pronunciare. E' questo il commento del segretario del PD Epifani alla parola colpo di Stato e al discorso pronunciato ieri da Silvio Berlusconi. Parole, quelle del Cavaliere, che arrivano a pochi giorni dalla data impressa nell'agenda di Berlusconi, mercoledì 27, il giorno del voto sulla decadenza. Si rivolge alla piazza ma soprattutto torna a chiamare in causa direttamente Napolitano Berlusconi. Non chiederò mai la grazia al presidente, spiega il Cavaliere, è una questione di dignità, ma, sottolinea, dovrebbe essere lui a darmela attraverso una iniziativa personale. Sarebbe un modo, spiega Berlusconi, per risparmiare a chi ha guidato per molti anni il governo dell'Italia l'umiliazione dei servizi sociali. Alla convention dei giovani di Forza Italia a Roma il Cavaliere chiede alla platea e a tutti i suoi una prova di forza in piazza, proprio mercoledì 27, per contestare quello che definisce appunto un colpo di Stato. Non accetteremo questo golpe senza reagire. Sfido, la sinistra protesta Berlusconi che poche ore prima aveva annunciato prove dagli Stati Uniti per confutare la sua condanna, scaturita da un processo con intenzionalità politiche e da una magistratura di parte. Al Cavaliere in mattinata erano arrivate le parole di sostegno degli scissionisti del nuovo centrodestra, con Alfano che parla dell'alleanza ma soprattutto torna ad attaccare i falchi. C'è gente, dice il vicepremier, che vuole bene a Berlusconi, che resta nel centrodestra, semplicemente stanca però dell'idea che il nostro movimento possa finire nelle mani di estremisti che violentano ogni giorno la serenità, l'equilibrio del Cavaliere. Alfano spara alle spalle come terroristi, questo il commento di Daniela Santanchè.